alla paris ciao a tutti, ci conosciamo qui a festeggiare le nostre messe ma più che altro a festeggiare la Lega Nord abbiamo qui tutto il Piemonte una gran bella cosa una rappresentanza qua in giuria un ragazzo abbiamo ancora una ragazza per ogni provincia di là abbiamo la giuria tecnica benissimo detto questa giuria perché abbiamo aggiunto una fascia una fascia talentuosa non vuol dire talentuosa una ragazza che è bella, studiata e tutto quanto ma ha qualcosa di più da dire e vediamo poi i nostri giurati come individeranno queste ragazze una è già stata individuata con lui abbiamo anche pazienza come sempre Carlo Ausino il regista della nostra bella città che ogni tanto invece di fare così mi piace qualche ragazza la prende e la fa lavorare grazie a Carlo la giuria poi la presenti tu siamo in ritardo direi cominciamo subito ma certo la prima uscita è l'uscita quella classica è la le ragazze che si fanno vedere tutta la loro bellezza e per ottenere questo le abbiamo messe con un bel bichini cominciamo via con la musica voglio solo ringraziare Rete7 che sta riprendendo grazie un applauso agli amici di Rete7 come sempre ogni anno ci segue vai maestro a quello con il grosso applauso grazie 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 ragazzo La mia l'allora è una terapeutica per me E' un po' che mi stavo che mi waltriono E' un po' che mi stava E' un nome fu rita Signora flora Dami una porta Esalti tu E qui te amo da Dove un po' che fa Dò nella travese Esalti tu E' un po' che mi piatta E' un po' che mi ha il burro E' un po' che mi ha il mondo E' un po' che mi ha il mondo Grazie a tutti E' felice per la natura Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.